Se siete dei ciclisti appassionati in cerca di una bici performante, leggera e adatta sia alle gare che alle lunghe escursioni, la nuova Cannondale Scalp 2024 potrebbe essere la scelta giusta per voi. Il design è innovativo, accattivante e moderno, con linee pulite e cavi interni al telaio. Il telaio è stato ottimizzato ed ora presenta un angolo di sterzo più aperto da 66.6 gradi per facilitare le discese tecniche e un angolo di sella più verticale di 75.5 gradi. Il reach è ora più lungo per una posizione di guida più efficiente e sono stati dotati di lunghezze specifiche dei foderi bassi per mantenere il ciclista più centrato tra le ruote, garantendo una trazione migliore e un controllo superiore. La sospensione Flex Pivot brevettata da Cannondale è leggera e ben progettata, con zone flessibili in fibra di carbonio. In più, la cinematica delle sospensioni è ottimizzata per ogni taglia di telaio. La Cannondale Scalpel è adatta sia per il cross country che per le gare marathon di lunga distanza. I modelli sono 6, quello di punta si chiama Lab 71 e costa 12.999 euro, ma dato che non digerisco i prezzi cosiddetti psicologici, per le cifre con il 99 finale ho arrotontato il prezzo di 1 euro per eccesso, motivo per cui trovate scritto 13.000 euro. Bricioline insomma, per un peso complessivo di 10.4 kg. Il modello 1 Lefty costa 9.500 euro per 11.3 kg, il modello 2 Lefty 7.500 euro per 12.13 kg, il modello 2 costa 6.800 euro per 11.83 kg, il modello 3 5.000 euro per 12.64 kg, e il modello 4 4.300 euro per 13.3 kg. Ed andiamo ad analizzare il telaio. Il modello di punta, come detto, è caratterizzato dalla sigla Lab 71 ed utilizza un carbonio di maggiore qualità, che porta il peso complessivo del telaio a solo i 1.620 g, mentre per tutti gli altri modelli il peso è di 1.850 g. La forcella, per i tre modelli superiori troviamo una Lefty Ocho 120 Carbon, quindi una forcella in carbonio con 120 mm di escursione. Per i modelli 2, 3 e 4 troviamo RockShox Seed Select Plus RL, sempre con 120 mm di escursione. Come ammortizzatore RockShox Seed Lux Ultime per il modello Lab 71, mentre per tutti gli altri modelli RockShox Seed Lux Select Plus. Come trasmissioni sulla Lab 71 troviamo la trasmissione d'eccellenza elettronica SRAM XXSL Eagle AXS con corona da 34 denti e pacco pignoni 10-52. La 1 Lefty monta SRAM XO Eagle AXS sempre elettronica, la 2 Lefty e la 3 Lefty montano SRAM GX Eagle AXS anche questa elettronica, la 3 monta Shimano XT con corona da 32 denti e pacco pignoni 10-51, mentre il modello 4 un Shimano Deore 6100. I freni sul modello Lab 71 troviamo SRAM Level Ultimate Stealth a 4 pistoncini con dischi da 180 e 160 mm. Questi dischi li troveremo montati su tutti i modelli. Sui modelli 1 Lefty, 2 Lefty troviamo SRAM Level Silver Stealth, sul modello 3 Shimano Deore M6100 e sul modello 4 Shimano Deore MT501. Il manubrio sui due modelli al vertice troviamo il System Bar XC One Flat in carbonio, un nuovo cockpit integrato. Sui due modelli medi il Canon Del One Flat sempre in carbonio, mentre per i modelli 3 e 4 un manubrio in alluminio Canon Del 2 Flat. Come reggisella sulla Lab 71 troviamo il RockShox Reverb AXS, un telescopico elettronico. Il modello Fox Transfer SL Performance Edit per i modelli 1 Lefty, 2 Lefty e 2, mentre per i modelli 3 e 4 un Canon Del Down Low Dropper. Come sella troviamo la Prologo Dimension NDR su tutti i modelli, ma nei primi 3 i binari sono in T-Rox. E passiamo ai cerchi. Come al solito la Lab 71 si differenzia dalle altre montando dei DT Swiss XCR 1200 Spline in carbonio. La 1 Lefty monta DT Swiss XCR 1501 Spline 1 in carbonio, la 2 Lefty e la 2 montano Hologram XCS 27 sempre in carbonio, mentre il modello 3 e 4 montano cerchi in alluminio Stance No Tubes Crest MK4. Le gomme tutte uguali su tutti i modelli, Maxxis Recom 29x2.4 pollici di sezione all'anteriore e Maxxis Aspen 29x2.4 pollici al posteriore. Per concludere, il modello da scegliere dipende dalle vostre esigenze, dai vostri obiettivi e dalla vostra possibilità economica. Se siete dei grandi pedalatori e partecipate a delle competizioni marathon, il modello 1 Lefty da 9.500 euro per 11 kg o il modello 2 da 6.800 euro per 11.83 kg potrebbe fare al caso vostro e sarebbe quello che sceglierei io. Per chi invece ama il cross country ma non partecipa a competizioni, i modelli 3 e 4 vanno più che bene. E voi? Cosa ne pensate? Se il mio sito internet www.mountainbikingtube.com troverete tutti i dati indicativi relativi ai modelli menzionati. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!